Il nonno di Heidi era un soldato borbonico e uccise una persona a Napoli. Fermi, è la verità. Lo dice proprio l'autrice del romanzo di Heidi, Johanna Spiri. Nelle pagine infatti leggiamo che il buon nonno di Heidi, quando era giovane, era un uomo scapestrato che rovinò l'intera fortuna di famiglia gettandola nel gioco d'azzardo e in donne. Fu così che per salvarsi dal carcere decise di diventare un soldato svizzero e lavorare appunto a Napoli. Stette in città per circa 12 anni e pare ebbe anche un figlio con una donna, tale Tobias, sarà il padre di Heidi. La storia del nonno continuerà in maniera ancora peggiore. Infatti durante una rissa nei bassifondi napoletani accoltellò un uomo e per fuggire chiaramente al carcere decise di tornare sulle montagne svizzere portandosi suo figlio. Purtroppo l'uomo, dopo essersi sposato e aver avuto una bambina, morì in un cantiere e anche la mamma fece la stessa fine. E così la bambina tornò da questo nonno tenebroso e misterioso che noi tutti ricordiamo nei cartoni animati per bambini che abbiamo visto durante la nostra infanzia.